La sindaca Cecilia Francesi insieme al consigliere Giuseppe Bovi in una nota comunica di aver incontrato il direttore generale dell'ASL, il dottor Antonio Giordano, per discutere le iniziative per migliorare lo standard dell'offerta sanitaria dell'ospedale e del distritto sanitario. In particolare il dottore Giordano ha comunicato che è stato assegnato alla cardiologia e ha già firmato il contratto con l'ASL un cardiologo, il dottor Luigi Corrado. Per la terapia intensiva neonatale a breve dovrebbero arrivare nuovi medici in organico a sostituire quattro medici prossimi al pensionamento. In ortopedia sono stati assunti due specialisti che vanno a completare l'organico già in corso ed entreranno in servizio dal primo luglio. Per la chirurgia è stato già annunciato il nuovo primario, il dottor Larocca, proveniente dal Cardarelli. In radiologia, dopo la nomina del dottore Mondillo, responsabile della struttura, è stato annunciato che verrà rilanciata la medicina nucleare, attribuito l'incarico di responsabilità alla dottoressa Ciranna. Sempre per la medicina nucleare sarà attivata anche la terapia radiometabolica. Pronto è anche il concorso per i medici del pronto soccorso. Infine, a breve, arrivano 15 osse tra eboli e battipaglia. Rilancio imminente per la mammografia presso il distretto con l'arrivo di una nuova strumentazione. Per il centro Alzheimer presso Villa Maria, il direttore generale Giordano ha voluto rivedere la pratica in toto per arrivare ad una soluzione definitiva che dichiara prossima.